Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dunque oggi voglio presentarvi una nuova applicazione molto simpatica di Google che si chiama Inbox Inbox è un'applicazione sviluppata alti dallo stesso team che si occupa di Gmail ed è in qualche modo complementare all'applicazione relativa alla posta elettronica di Google anche questa è relativa alla nostra mail sempre su Gmail però offre un approccio leggermente differente andiamo a vedere come funziona in introduzione comunque vi dico che si tratta di un'app che diciamo è Gmail però ha qualche comunque funzionalità integrata per esempio da Google Keep relativamente alla gestione dei pro memoria posso scrivere email e anche impostare i pro memoria e gestire tutte quelle che sono le email che mi arrivano in un modo nuovo secondo me allora partendo dall'interfaccia dunque la prima novità di livello secondo me è il fatto che tutte le email che mi arrivano qualora presentassero contenuti ad esempio video oppure foto allegati eccetera mi vengono mostrati direttamente quindi senza aprire la mail avrò a che fare con il contenuto multimediale può essere anche il bietto di un aereo per esempio direttamente sull'interfaccia principale quindi potrò andare a vedere qual è il diciamo uno dei perni principali del messaggio che mi è arrivato posso interagire con questo elemento magari col video di YouTube e andarlo a vedere direttamente senza aprire la mail poi stessa cosa quindi per le immagini ad esempio me ne avevate queste immagini un altro router della Netgear quindi uno dopo quello che abbiamo visto in fase di unboxing comunque prendecele a disposizione qui sotto stessa cosa sui social si apre la scheda social ah Daniel Petkovic che in questo momento si è iscritto al canale e lo ringrazio comunque ho per esempio i video relativi a come assemblare un pc e un commento che mi è arrivato da Pasquale D'Angelo quindi se voglio andare a smanettare andare a vedere qual è il commento ci clicco su posso andare attenti al video però attenzione poniamo che io mi trovi diciamo al lavoro cosa mi succede io in quel momento non posso andare a rispondere al commento sul video quindi cosa posso fare posso facendo uno swipe da destra verso sinistra programmare quando mi deve essere riproposta quella email quindi per esempio mettendo che sia l'oro di pranzo posso programmarlo per la sera oppure per domani questa qua è già impostata alle 7 di mattina chiaramente è per dire però in questo modo io tolgo dal mio stream l'email che in quel momento non posso consultare non posso vedere e magari faccio spazio ad elementi più importanti che possono essere mi utili e poi nel mio tempo il libro mi verrà riproposto e quindi io mi ricorderò automaticamente che dovevo rispondere a quel determinato commento posso anche andare a gestire ovviamente c'è la catalogazione per relative alle categorie che abbiamo già visto anche su Gmail però viene riproposto qui quindi viaggi, acquisti, finanze eccetera eccetera posso vedere le email inviate le bozze e i promemoria i promemoria posso anche vederli oltre che col menu che abbiamo appena visto cliccando qui sopra passando vado a vedere quello che è relativo ai promemoria che ho già impostato posso vedere quelli precedenti e magari impostarne di nuovi premendo su più e cliccando su promemoria e quindi creare un promemoria tale quale a Google Keep molto semplicemente è un'applicazione diciamo abbastanza semplice da utilizzare e anche molto immediata secondo me vale la pena provarla unica cosa da segnalare e bene o male vi ho segnalato tutto relativamente all'applicazione quello che vi devo dire è che l'applicazione ancora in fase di beta test bisogna essere invitati se avete il più attento di voi avranno notato che ho ricevuto questi mail di benvenuto dunque per ricevere l'invito necessario per utilizzarla dovete inviare una mail a inbox chiocciolagmail.com e scrivere in inglese perlomeno a me così era stato detto perché vorreste ricevere e provare questa applicazione dopo un X tempo nel mio caso è stato 10 giorni dovreste ricevere l'invito e poter scaricare l'applicazione potete scaricarla stesso oggi anche dal Play Store apri anche il link del Play Store però non avrebbe senso da fornirvelo perché c'è bisogno comunque che l'account sia sbloccato e abilitato per l'utilizzo dell'applicazione altrimenti non parte proprio perfetto detto questo io ho chiudo qui il video vi ho presentato bene o male tutto fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un commento lasciate un piacere se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video io come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo video